I giovani di oggi sono senza valori? Le persone di oggi hanno meno valori di una volta? La risposta è complessa, ma alcune cose possono aiutarci ad inquadrare meglio la situazione. I valori che ci ispirano sono i valori della società in cui viviamo. Vengono creati dalla società, dalla cultura, dalle filosofie, dalle religioni, dalle credenze. Se viviamo immersi in una società in cui il valore dell'immagine, il valore del successo anche se è effimero, il valore della bellezza da mettere davanti ad ogni cosa, anche al valore della persona, sembrano gli ideali più importanti da raggiungere e nel frattempo altri ideali cambiano e si trasformano. Pensiamo all'ideale della religione, della fede, che negli ultimi anni ha avuto una grandissima evoluzione ed involuzione. Secondo da quale prospettiva vogliamo vedere la cosa, allora possiamo capire che non è così semplice la risposta. I giovani di oggi non sono in assoluto giovani senza valori. Quando parliamo di giovani generalizziamo, ma sono esseri umani e il singolo ha sempre dei valori, ha sempre qualcosa in cui crede ed in cui vorrebbe credere. Ma come ricorda un proverbio africano, per crescere un bambino ci vuole un villaggio e quindi questi giovani vivono immersi in una società in cui cose fino a poco tempo fa impensabili vengono accettate o riconosciute come possibili e c'è meno sgomento di fronte alla violenza. Alcuni atteggiamenti, pensiamo solo al linguaggio non solo aggressivo ma a volte becero, utilizzato addirittura dei personaggi famosi che passa come se fosse giusto. Ecco, questi messaggi vanno a colpire, vanno a costruire l'interiorità di tutti. Chi ha meno strumenti si può difendere meno. Questo cosa significa che se i ragazzi oggi mostrano più frequentemente di un tempo di non avere quella capacità di empatia, di pensiero critico, di riflessione, di solidarietà che una volta sembrava più presente non dipende da loro perché ogni singolo individuo poi fa le proprie scelte ma molto dal contesto in cui sono inseriti. Per questo mi interessava condividere con voi questa riflessione. io mi occupo di valorizzazione personale, di aiutare ogni persona ad essere il miglior se stesso e continuare a raggiungere i propri sogni, a creare valore nella propria vita e la comunicazione è lo strumento principe, quello che pensiamo, quello che diciamo, è quello che siamo ma anche quello che riceviamo e fino a che lasceremo passare tutti questi messaggi negativi di disvalore non dovremmo stupirci del fatto che le nuove generazioni abbiano difficoltà a capire qual è la rotta giusta. D'altra parte posso dirti io che lavoro anche con persone giovani che all'interno della classe generale giovani ci sono persone straordinarie che tutti possono migliorare, tutti possono scegliere la via giusta perché ogni essere umano alla fine quello che desidera è entrare in contatto con la sua forza e luce interiore. Se la società aiuta ad andare in questa direzione è meglio ma ognuno di noi è responsabile della propria vita e io resto convinta che se ognuno di noi cerca di fare del proprio meglio là dove è tutti insieme riusciremo a fare molto. Un piccolo contributo io lo do da tanti anni con il mio podcast Comunicare per Essere. Ti puoi iscrivere gratuitamente su tutte le app per podcast Spotify, speaker Apple podcast trovi riferimenti e il link anche nella descrizione del video. Ogni settimana nuove prospettive guidate da questa visione dell'essere umano. Si può sempre migliorare, ognuno di noi può fare del proprio meglio e questo vale anche per i ragazzi. Quando leggiamo di episodi che coinvolgono i più giovani ma non solo loro direi persone di ogni età e ci rendiamo conto che a volte sì si perde un po' la strada. Quello che dovremmo pensare è che è importante che noi manteniamo la nostra perché ognuno di noi può dare un grande contributo anche alla persona che si trova vicino. È facile perdere la strada ma è anche facile riconoscere la strada giusta e quindi possiamo aiutare ogni essere umano con cui entriamo in contatto nella nostra vita soprattutto se prima di tutto impariamo ad aiutare noi stessi. Grazie per avermi seguito, ti aspetto al prossimo video. Ciao ciao!